Pillole di non solo suoni, la storia della musica, passa da noi. Ben ritrovati, se in Italia Sanremo ha chiuso i battenti e rappresenta ancora un'enorme passerella, anche per qualche big, ospite o super ospite, oltre Oceano ci sono altre sfide che attendono gli artisti come gli MTV Awards o gli Oscar. Ebbene sì, nonostante si tratti di una competizione cinematografica, anche la musica gioca la sua parte, come dimostrano gli Oscar di quest'anno che vedono una vera e propria lotta tra due cantanti e interpreti donne. Da un lato Rihanna, la sua prima nomination alla statuetta, e dall'altro Lady Gaga, perché entrambe sono appunto candidate all'Oscar per la miglior canzone originale. Le nomination sono state annunciate a fine gennaio e nella categoria comprendono anche altri talenti stellari, per così dire, come David Byrne e Diane Warren, vincitrice di un Oscar onorario il mese scorso, ora alla sua quattordicesima nomination nella categoria con applause dal documentario Let It Like A Woman. Non è in lista invece Taylor Swift, la cui Carolina di Where the Crowded Sing era tra i papabili appunto candidati. E allora perché non ricordare invece gli esordi delle due star che abbiamo citato, concludendo poi sempre in musica e attendendo naturalmente l'esito della scelta che sarà a marzo. Beh, iniziamo oggi da Rihanna, certamente non avrebbe bisogno di presentazioni. Nata nel cuore dei Caraibi, Robin Rihanna Fenty è la più iconica pop star del ventunesimo secolo. Lady Gaga potrà anche essere la più talentuosa, Rihanna Grande è la più popolare, Beyoncé quella dai dischi più curati e astuti, ma nessuna come Rihanna ha saputo attraversare gli ultimi 15 anni di musica e cultura pop senza mai perdere il suo ruolo di figura centrale. Con il risultato che oggi non è più lei a doversi adattare agli schemi del pop, ma è il pop che, e ovviamente chi lo muove, a doversi modellare insomma sul carisma di questa cantante barbadiana. Tornando proprio alle origini, ecco dischi e singoli dell'esordio come Ponder Play, passando per Umbrella Diamonds fino alla maturità di Antti. Classe 1988, l'infanzia è stata segnata da problemi di alcolismo e tossicodipendenza del padre, spesso causa di forti tensioni anche in famiglia, e di conseguenza ecco che Rihanna è cresciuta introversa, tendendo a isolarsi e a reprimere le emozioni negative. A 8 anni ha iniziato a soffrire anche di mal di testa cronico, che poi si è risolto solo con il divorzio dei genitori a 14. Nel frattempo, come valvola di sfogo, ha iniziato a coltivare la passione per la musica, in particolare per quella reggae, insieme a quella per il canto, con il sogno nel cassetto di diventare una cantante famosa. A 15 anni è riuscita a superare la timidezza, ha formato un trio vocale insieme a due amiche di scuola e si è esibita in vari concerti e concorsi in giro per la città. Durante uno di questi si è cimentata in una cover di Hero di Mariah Carey, di cui tra l'altro su YouTube si riesce a trovare anche un reperto video. Grazie a questa canzone è riuscito a ottenere un provino con il produttore veterano Ivan Rogers, lo stesso di Cristina Aguilera e Kelly Carlson. In quei giorni era in vacanza infatti all'isola Barbados con la moglie e così ecco che Rihanna a 16 anni si è riuscita a trasferire in pianta stabile in America. Quando ho lasciato Barbados ha raccontato non mi sono guardata indietro, volevo solo fare ciò che dovevo fare. Sotto la guida di Rogers e adottando proprio il nome d'arte di Rihanna, Robin è riuscita a mettere insieme un CD demo di quattro pezzi tra i quali figura proprio Ponder Play, la sua futura prima hit. Il demo è stato inviato alla Def Jam DJ Z ottenendo un'audizione a New York durante la quale la cantante è così riuscita a impressionare il rapper ma anche il discografico Antonio L.A. Raid e che sono rimasti colpiti dal potenziale commerciale di Rihanna e di un singolo come Ponder Play. Quella stessa notte Jay-Z e L.A. hanno fatto firmare alla diciassettenne un contratto di sei album e così è cominciata la carriera della pop star Rihanna come la conosciamo oggi e allora proprio per oggi ci fermiamo e vi lasciamo a questo singolo.